faccio di nuovo la besciamella ma questa volta invece di utilizzare il burro andrò a mettere l'olio d'oliva quindi 500 grammi di latte quale utilizzate voi io utilizzo quello senza lattosio 50 grammi di farina io sto utilizzando la 00 40 grammi di olio d'oliva potete mettere anche un altro olio 5 grammi di sale e noce moscata a piacere vado a mettere tutto nel boccale imposterò 8 minuti per 90 gradi farò prima una velocità più bassa 2 poi ripeterò di nuovo e farò altri 5 minuti sempre a 90 gradi ma velocità 3 abbiamo inserito tutti gli ingredienti andiamo a impostare il programma prima fase terminata controlliamo già si vede che è a buon punto chiudiamo e impostiamo a questo punto altri 5 minuti ma questa volta a velocità 3 sempre 90 gradi ovviamente manca qualche minuto e vado a togliere il tappeto sopra ecco la nostra besciamella pronta